e dal deserto di sale si passa a una cazzo di giungla pluviale come fanno a coesistere due ecosistemi così infinitissimamente diversi Superbus Illuminami Azeroth è un mondo fantastico grazie più di 10 iscritti per Superbus stai registrando? si ma perché si nota così tanto? non lo so ma alla fine io sono cazzone uguale secondo me cioè la gente molto spesso mi chiede se stavo registrando perché non si rende conto quindi è per me motivo di vanto bene hola 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 da Max dei Berrofronzo questo qua è il non so che esimo episodio dov'è lo stronzo che mi parla? pronto? che male? che succede? mi sono fatto malissimo e vabbè si vaffanculo accettiamo tutte le emissioni che ci dà questo tizio benvenuti a questa ennesime puntete di questo chiezzo di gioco colletto 8 bloodcaps naturalmente adesso la piantina mi si illuminerà come un albero di natale oh yes cazzo quanto adoro il 4x4 ok guardiamo la piantina di un Goro Crater è un merdaio che cazzo è? Goro di St. Glend divino Matic Road cazzo però sta K mi farebbe comodo io non ho una testa tipo allora nella missione di oggi cioè nella puntata di oggi cosa facciamo? bis non lo so aiutami a rendere interessante io non riesco a fare lo youtuber da solo capito? tu mi devi un attimo eh scusa sto 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 un attimo bis povero bis porco giuda perchè ci sono dei dinosauri cc aiuto c'è dei dinosauri giganti in questo cazzo di posto ah sei bello bello mi piace quel posto ah stai bello bello si una foresta pluviale dove piove sempre oh aspetta e questo cosa devo fare ho oggetti questo? non mi sembra proviamo a ucciderlo aspetta, critapollo starfire sono un critapollo? si moonfire ti picchio e adesso ti picchio a mano questo è di livello 49 il signor ravasauro noi abbiamo mega ravasauro ma da faca raptor flash chissà ah si dai magari un giorno imparo come cucinarla among the journal angoro soil ok allora cosa stai dicendo? allora 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 l'angoro è fighissimo l'angoro cosa c'è da dire dell'angoro? non lo so, che è tondo aspetta che tra l'altro ho iniziato una quest che non so neanche qual è in mezzo c'è un vulcano gigante veramente? ah si cazzo è vero beh e dove cazzo è che la devo con sé? ma donna mia che merdaio di posto piece of terre non carcass boh ehm riprendiamo il nostro codo ok oggi bonifichiamo il cratere di un goro secondo te è un cratere perché è caduto un meteorite? o cioè tu sai più o meno la storia di sto posto? perché io sono piuttosto ignorante ehm no di quel posto non la conosco molto la storia toxic tolerance di un minuto c'è scritto così è fighissima no, non è vero jolly si è ritornato non avevi detto che... oh, è tornato afghano che moriva stai molto calmo e si in teoria la toxic tolerance è così cioè guarda è toxic tolerance morveki in angoro crater dice che se tu vieni poisonato dai venomide ravasaur 20 volte potresti cavalcarne uno senza morire devi attaccare i venomide ravasaur per una chance di essere avvelenato e dice avvelenato cioè splashato inondato a secchiate del venomide blood 0 su 20 quindi io devo effettivamente farmi avvelenare 20 volte notabile il fatto che io tipo tra poco salgo di nuovo di livello ma no abbiamo detto però come si chiamano venomide ravasaur però qui ci sono solamente ovviamente ravasaur e basta noi abbiamo mega bulbasaur ma da fuck allora adesso io provo a stare qua sotto buongiorno dai avvelenami adesso io vado e lo picchio a mano pam pam c pomp sì sì anche io sono d'accordo con questa cosa che dici ma mi avveleni o no ma questo con mi sa che non è proprio venomide perché mi strappa le budelle e basta però non mi avvelena devi aspettare, devi avere calma devo avere calma? io sto continuando a dargli bastonate sulla faccia sto uccidendo un dinosauro a... ammazzate ma forse lo devi uccidere dopo prendere il suo veleno no? eh... ho propensato anche questa eventualità però non funziona in compenso c'ho la mia cioè la mia esperienza nell'usare le staffe è aumentata a 221 sto letteralmente rompendo le ossa a un dinosauro a colpi di mazza e non do idea del perchè continui a scendermi il mana probabilmente perchè mi sto anche curando guarda questo Ravasauro è esausto avvelenami ti prego avvelenami dai fammi questo favore dammi il tuo veleno il veleno per Cusco, Cusco il suo veleno quel veleno? si quel veleno Ravasauro ti prego rendi interessante questa registrazione sono salito di livello picchiando un dinosauro a colpi di mazza secondo me ho sbagliato dinosauro ed è buggata la Nei è buggata la Nei capito? è buggata la Nei questo qua è sempre un Ravasauro ma io devo andare sul Venomide Ravasauro giusto? gorishi worker clune d'os ma che cazzo quante missioni ho su sto posto? andiamo sul gorishi river buongiorno no aspetta prima crit a pollo dopodichè vado su questo qua e vediamo se riesco a picchiarlo ah ne ho presi due bene cazzo che male che mi fanno ma di che livello sono? cazzo 51 piano 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 aia aia jolly jolly viene a salvarmi jolly 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 aia cazzo sto morendo jolly 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 fai qualcosa cazzo ma vaffanculo coglione hai detto fai qualcosa cazzo cazzo corrisci clave come questo completed ma ne ho ucciso uno grazie il tuo apporto è essenziale quasi quanto quello di carb eh 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 non esageriamo ho detto quasi non esageriamo ma e quindi ho detto non esageriamo ho capito cazzo non esageriamo scusa non esageriamo mai più che palle che sei dove cazzo oh io continuo a non trovare questo fottuto dinosauro avvenenante di merda eh boh adesso continuo a picchiare questi insetti del cazzo 1440 c no non mi dire che quello la è un fottuto nemico perchè si è proprio un nemico ed è anche di livello 80 quindi magari mi tengo alla larga bene ehi figlio di troia perchè non mi dai la 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 sting bastardo un goro dirt pile e qui c'è un goro soil che però non ce ne fotte un cazzo buongiorno chiedo scusa permesso salve eccoci io sto uccidendo insettoni in una foresta pluviale e ancora non sono riuscito a farmi avvenenare tu ti rendi conto che sono arrivato al livello 53 con la massima aspirazione di farmi avvenenare da un dinosauro che neanche esiste penso che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato in tutto ciò sei tu la cosa sbagliata max probabilmente si e vabbè beviamo ok ci sentiamo quando avrò qualcosa di interessante da raccontarvi no ho trovato un venomide avvasaur avvelenami avvelenami devi avvelenarmi cazzo ce la fai ad avvelenarmi venomide ti prego avvelenami avvelenarmi se c'è scritto venomide ravvasaur ti prego ma porca puttana adesso ti strappo le mascelle dalla faccia dai dai stai zitto non può essere buggata ci ho speso troppo tempo della mia vita dai venomide ravvasaur ti prego ti prego avvelenarmi avvelenato ma perché sei così stronzo raptor flash devi smettere di spegnere di buttare di tutto quel tempo un po' di tempo fatto tempo dai zitto perchè il velo mai ravvasaur non mi avvelena cazzo ti prego guarda ti sto freddo il collo perchè non mi avveleni perchè non mi avveleni guarda mi sto consegnando spontaneamente la giusta pulizio rettivore giovanotti mi ricordo di chi era eh? quella canzone di prossimo tempo non mi ricordo forse era di giovanotti tempo papo 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 tempo comunque vadano le cose lui passa e se ne frega se qualcuno in ritardo puoi chiamarlo bastardo ma intanto è già andato e fino adesso nessuno l'ha mai fermato e tutto il più forse l'hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca modello non mi ricordo per come va avanti però era più o meno quello vero? guarda veno mai io adesso lo faccio ti prego veno mai guarda ti offro anche il culo veno mai veno mai veno mai ti prego guarda sto andando avanti poi ti giro intorno veno mai veno mai c'era una volta un druido che voleva farsi avvelenare veno mai veno mai ti prego veno mai veno mai travassauro ti sofflico perchè veno guarda sto anche ballando sul posto guarda slash no com'è slash dance tataratarata tataratar sono un cazzo di druido che non si fa avvelenare secondo me è perchè tipo razzialmente i druidi sono immuni da ogni tipo di modello va bene porro fino alle tue sofferenze che palle ma che cazzo queste baguette di merda si miss va muori fulminato e cazzo che palle dov'è quella dei ravasauri che non mi avvelenano che non riesco a trovarlo rave nosauris sarà no toxic tollerance splashed with venomite blood ma por puttana miseria to abandon che palle ragazzi allora adesso beviamo un altro po' in attesa di trovare qualcos'altro di intelligente da fare uuuuuh succhiammi il cazzo uuuuh ma cosa c'entra perchè perchè dovrei succhiarti il cazzo che attrattiva ha per me forse i druidi sono immuni al veleno tipo è quello che ho pensato anche io adesso vediamo se nelle passive razziali del druido c'è qualcosa che dice auto attack cooking cultivation dodge endurance base health niente find fish niente first aid niente fishing inscription milling mixology increase the fat and duration when you drink energy zero flask you will make riduce la chance che sarai colpito dalle spell natura natura del 2% però non c'è scritto niente di immunità ai veleni vediamo teleport moonglade thorns non c'è scritto niente questo non c'è scritto niente questo non c'è scritto niente questo non c'è scritto niente this was bla 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 while protected diventa questo qua oh se qualcuno è a conoscenza del fatto che il druido tipo di base non può prendere danni da veleno mi avvisi dubito perchè tipo qualche momento fa io prendevo danni da veleno qualche questo fa però va bene comunque da quello che ho capito tra l'altro ci sono questi cazzo di bloodcap che sono alla fine delle pianticelle di merda che tu tipo puoi un attimino vedete tipo queste qua che tu le apri vedete stai vedendo vero ecco e tu niente va in giro le trovi e semplicemente tipo cazzo quanti dinosauri che ci sono hai la carcassa di un mega bulbasauro ma da fuck questo qua è stato già usato ma come è stato già usato è un cadavere non può essere usato jolly necronfili necronfili ma ti prego ahia vaffanculo altro venomide ralasau 1300 di danno vedi vedi mi avvelenato mi avvelenato mi avvelenato venomide poison fronzo suffer for venomide poison allora sei diventato negro so consigli ai kimoto c'è scritto che mi avvelenato cazzo è vero ho abbandonato la quest nooo ma puttana miseria ma veramente eh ciao si è successo veramente così cazzo ma bravo max porco puttano sto per dire qualcosa di brutto ma non è possibile cazzo cioè appena ho abbandonato la quest e mi avvelenato ma sul serio eh a quanto pare vabbè senti mi è capitata una volta su quattro dinosauri quindi vuol dire che è una stronzata non riesco neanche a prendere un pezzo della carcassa di sta cosa io faccio reload ma dimmi te oh ma tutti quanti insieme i bug ma che cratere di merda ah no baffanculo la razza di culo ho spanato dove possono entrare i dinosauri a passeggio no ma più che altro sai che è tipo ogrimized attack no? si è passato un più di un party full davanti in motocicletta ha fatto ah tutte queste batteriette rosse con il teschio in motocicletta ma ma allora qui dice no a cazzo a cazzo la do strada trova la carcassa di larkowi freshest kill e ruba un pezzetto della carcassa di terasodonte prima di ritornare alla pathfinder torua ad un goro crater pezzo di terasodon carcassa 0 su 1 ora questa è una cazzo di terasodon carcassa fresca e qui mi dice non puoi ancora prendere un pezzo ma c'è io ci sono sopra è una cosa piuttosto enorme questo cazzo di dinosauro e dice no dove puoi prendere altri pezzi ma come porca puttana cioè si sta illuminando posso prenderla posso? Nel frattempo c'è questo cazzo di larkowi mate che sta tentando tipo di nel frattempo io aspetto in quewe tipo dovrò aspettare 40 minuti almeno per loggare vado qua sotto vado qua sotto vado qua sotto vado qua sotto sarà perché ho il... no c'è il junior my pack hack quindi non è una questione di spazio magari mi devo girare fai un salto fanno un altro cazzo non posso prendere un pezzo di carcasse ma prendi un colto un cazzo e questo max cambia questo e questo ma non posso cambiare quel cazzo devo solamente prendere un pezzettino ma basta non ci puoi non puoi prenderlo neanche intanto tra l'altro aspetta che sono oggi sono tre punti va fare un altro questo e torna a controllare dopo ma cosa vuol dire starfall 20% di ti prendi una questa alla volta tu di solito arrican enterfu no 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 po metto queste qua che sembra utile dice che ancora deve essere usata ragazzi che frustrazione ok a tra poco che cosa cazzo sto guardando ma 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 allora adesso tento di descrivertela c'era un immenso dinosauro gigante morto con la carcassa che vola a mezz'aria e poi si infila dentro la montagna a si credo ehm ehm meno male che sto server era privo di bug ma non esistono server privati privi di bug max ehm si ok ma ci potrebbero essere bug non così vistosi e così terrificantemente vengalo a questo mente catto che non capisce un cazzo ma chi no tu muori morite entrambi no i muculentoz no 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 aia aia ce l'ha fatto ok grazie dove l'entrata per questi cazzo di di fungal rock fico un gorostomper ah e questo li devo uccidere buongiorno delle scimmie sembra guarda somigliano a tarfa cazzo che male che mi fanno eh eh sarà che sono di livello no il cazzo che sono di livello 52 cioè dovrei essere più grosso di loro però mi fanno un male della madonna muori stronzo gorilla fang no fur no eccolo qua questi qua devo prendere che strano una questa che funziona e questo e si non accessi si e 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 sto cercando un cazzo di gorilla gigante però non c'è dove l'hai nascosto bis scommetto che sei stato tu dillo dentro la caverna di gorilla fa si infatti lo sto cercando esattamente qui però non c'è non capisco perché eh si nascosti c'ho paura poverino c'è eh e e e e e e e il berlo cazzo ghost riders in the sky dove cazzo oh grazie posso proseguire adesso vorrei arrivare al posto dove c'è sto cazzo di o eccolo qua uccia che nome del cazzo aspetta vediamo un po se riesco a invitarlo nel party fantastico ti voglio bene massacriamolo in due bam porca puttana che male che fa non gli vedo neanche la barra della vita ma pazienza e io l'ho completata lì diciamolo scusami max grazie a te mi dice un'instance di allo 40 eee guarda col dungeon finder ah sono troppo alto eeeh eeeh andiamo su vovedo che palle nooo sono resuscitati tutti i fottuti orsi no orsi buonanotte gorilla magari confondere un orso con un gorilla bisogna essere stronzi almeno quanto tarf tipo o come carb ciao carb se è venuto a rendersi la vita una merda anche oggi grazie 15 eeeh iiii 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 classic di livello 40 hai detto iiii 40 40 buongiorno guarda quanta gente che c'è salve 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 uldomod mi sono rotto il cazzo di questo posto posso uscire dal combat? posso uscire dal combat? nelle badlands però non è facile raggiungere nelle badlands no c'è razzo ferdown che è nel barren dire maul è già un po' alto 44-47 buongiorno stone guardian di livello 60 elite mi sa che almeno per un po' non ci incontreremo 42-45 razzo ferdown quella sopra è più a basso è più a basso che fico non c'era questa cosa qua l'altra volta non posso neanche aprirla sono sceso da cavallo inutilmente bene, cavallo da codo ma se quando sei a cavallo si dice cavalcare quando sei su un codo codare codalcare calcare la lavatrice vive non c'è truccazzo anche questo posto tra l'altro ho sbagliato madonna e quando ti mangi il latte avariato eh quando ti mangi il latte avariato diventi si dice max si si dice max chiunque non lo sappia perché non lo può sapere perché non si conosce la mia vita privata questa mattina mi sono svegliato oh bella ciao ok allora questa mattina mi sono svegliato e mi sono fatto un caffè latte solo che non ho considerato che il latte che avevo in frigo era tipo lì aperto da boh una settimana una roba di sto tipo e quindi quando l'ho versato dentro al caffè ho dovuto buttare via il caffè perché ci ho versato dentro il formaggio fuso praticamente una merda Chasing Amy trova Amy01 noo Chasing Amy questa qua è una citazione da da un film un po' persino delle citazioni eh si lo so grazie ma questa qua è una citazione da un film che ma che cazzo sto dice quante missioni ci sono aiuto nelle Outland c'è l'area 52 si lo so collect otto vabbè sti cazzi ma quanti punti esclavativi ci sono questi qua sono per natale vero? lost si si vabbè tanto ti da assolutamente come ricompersa plate o mail quindi vaffanculo decline muori beh no vabbè dai magari mi capita lo stesso di eh non si butta via niente roll the bones keep it real questo nooo ma vaffanculo ma perché non me l'hai detto prima che ti serviva questo oggetto che coglioni expedition salvation posso consegnare grazie ciao ciao dario ne bong bing 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 dov'è il punto volo? come si raggiunge? cazzo... perché per avere il punto volo devo volare? hello un pot discover vediamo come vabbè ci sentiamo tra qualche secolo che cazzo ma pensavo che natale fosse già passato perché c'è un albero di natale nella mia piantina perché secondo me invece in questo posto qua vediamo uga ciakka uga 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 ciakka uga uga i can't stop this feeling deep inside of me girl you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so do you let me uga ciakka uga uga everything is alright ehhh ahhhh ahhhh ahhhhhhh uggda lo feeling ta 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 Tu riguardavi i bei watch quando eri piccolo o giollaccio? ta 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 something was there in the dark che tettona che era pamela handerson che è tuttora veramente però ormai c'è talmente tanto di quel silicone che praticamente se la squaglio la posso utilizzare al posto del mio microprocessore sono finte com'è gommoso praticamente se abbracci un gommone pieno di gomme da masticare ottieni la stessa quantità di gomma più o meno mentre se devi una testata sulla letta rimbalzi puoi usare come airbag pamela henderson grazie pamela henderson è tipo la... se ti piacciono le tettone di pamela henderson allora metti mi piace se ti piace come si chiama david aseloff devi mettere mi piace ogni cazzo di cosa che io guardo... che ti piace? no no che ti piace mettimi piace no cazzo sono già in mano a lui ogni cazzo di fottuto merda di pterodattilo che trovo cioè ogni animale all'interno di questo coso è potenzialmente uccidibile perché potrebbe darmi qualcosa e io sono un crittapollo ma non hai il naso per respirare oh cazzo no 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 non mi dire che c'è un ali si ci sono due ali ma porca puttana uga cacca uga cacca uga secondo me adesso arrivano e mi triturano la faccia vediamo se mi lasciano in pace e non mi rompono i coglioni vediamo eh vediamo se non... no il cazzo mi rompono i coglioni perché sono stato tramutato in qualcosa si che bello che rompipalle ma dai ma mi lasciate in pace devo questare no mi rompete il cazzo ma che coglioni O? come appena aspettavo? low oh legta grazie che coccoli che siete uga uga cacca proprio Perche gli ali sono così trituracazzo da un guerriero sono stato shottato lo aiutato? come facevo? io non sono io non sono un cazzo di pvp mi devi addestrare i golli così quando vedo un ali gli rompe il buco del culo buco del c**o Sì, infatti. Poi non so neanche che livello euro. Ecco, sono diventato un Ghost Rider. E-P-I-E E-P-I-U Ghost Rider in In the Sky Cazzo Che palle neanche un Goro Crater si può questare ma com'è che salgo di livello? Col pensiero che due coglioni la vita Tutto a colpa tua, Jolly Devi trovarti un gruppo con almeno un nuotante forse riesci a far qualcosa. Che due palle ragazzi. Ma io so, io ho il setato senza nessun gruppo Senti. Questi qua adesso mi staranno campando. Ma perché posso nuotare in quanto spirito? Non dovrei tipo Questi qua? Eh, eh, mi sa che è un bug questo Ce la dovresti cambiare sopra l'acqua Ma come se non spirito devi capire Boh, almeno non stavano campando sopra il mio cadavere, il che è un po' buono insomma Ok, ricominciamo a farmare Buongiorno Frenzie però Dax Sì, mi dispiace tipo disturbare la sua permanenza all'interno di questo No, no Non mi dire che sono di nuovo qua Cazzo O è lui che mi sta firando Può essere che è lui che mi sta firando Sono anche salito di livello Grazie Ok, non c'è nient'altro che devo prendere A tra poco Boh, dato che effettivamente oggi c'è troppa cazzo di gente Alli di merda in questo posto Penso che per oggi Io smetto di questare qua Vado in Salmon Sickness E storno a casa Perché mi sono veramente triturato il cazzo E quindi direi che Nonostante tutte le troiate dette oggi Boh, anzi no Nonostante Oggi me ne vado abbastanza col buon umore A dire la verità Nel senso che Comunque Anche se Ci sono gli agli Frentumapalle Mi sono divertito Quindi salutiamo Iki Che se ne è appena andato Ciao Iki Salutiamo Il signor Superbussola Che ci ha tenuto compagnia Ciao a tutti Nonché il signor Giollaccio Ella riga Logicamente Ricordiamo ancora una volta Che tutte queste persone Che giocano con noi Hanno un loro canale Se ne avete voglia Sono tutti quanti in descrizione Un like a questo video È cosa assolutamente gradita E se volete essere aggiornati Nei nostri video O nei loro Un'iscrizione al canale È anche Qualche cosa che fa comunque piacere